Stai bene, papà? Sì, mi sento benissimo. Davvero? Sì, più vivo che mai. Lascia che tuo padre si riposi un po', bambini. Ne ha passate tante. Grazie cara. Dove mi trovo? E perché indosso solo biancheria intima? Vieni a letto, tesoro. È già tardi. Sì, giusto in un attimo. Devo occuparmi di qualcosa per un minuto? Di cosa? È quasi mezzanotte. Devo portare fuori la spazzatura. Due borse per l'esattezza. Ok, ma per favore dai la buonanotte ai bambini. L'hanno chiesto. Ok, lo farò. Ehi, rispondimi. È un sogno? Sei ancora più stupido di quanto pensassi. Non è un sogno. Sei nella tua testa. E come faccio a uscire da qui? Niente affatto. Buonanotte, tesoro. Sono così felice che tu sia tornato. Ero davvero preoccupato, papà. Ok, ora devo andare. Mi preparerai i pancacchi domani? No, sono occupato. Sei disgustoso. Me ne vado adesso. Ehi, non è disgustoso. Lisa scorreggia sempre prima di andare a letto. Buonanotte figlio mio. Buonanotte, papà. Ho bisogno del tuo aiuto. Possiamo farlo domani? Vado di fretta. Sì ok, ci vediamo domani. Perché non aiuta Samuel? Cosa sta succedendo qui? Uh, non sono sicuro. Perché no? Sei tu il genio qui, vero? Ho ho ho, è stato bello. Prima mi occuperò di Bob. Dopodiché mi occuperò del dottore. Pagheranno tutto. Ehi Selina, vado a casa adesso. Ok, buonanotte Bob. Ti auguro una buona serata. Volevo chiederti una cosa. Sì, che cos'è? Volete mangiare una ciambella insieme? È un appuntamento? Sì, andiamo nel miglior negozio di ciambelle della città. Sì ok, perché no? Davvero? Non pensavo avresti detto di sì. Nemmeno io. Ma eccoci qui. Ok, vengo a prenderti domani alle 8. Finalmente ho la mia vendetta. Bob non ha idea di cosa succederà. E anche questo dottore no. Cosa sta facendo il ragazzo? È decisamente arrabbiato. Lo sento. Perché ha il controllo del mio corpo? Non ho idea di cosa stia facendo. Perché il cuore controlla tutto. Sono solo il cervello. Devo ascoltare il mio cuore. Salve. Penso di essere malato. Sì, certo. Il dottor Thorsten è ancora in servizio. Thorsten, c'è un paziente per te. Ha bisogno del tuo aiuto. Dove di nuovo? Torno subito. Ok, non c'è fretta. È il giorno più bello della mia vita. Il mio sogno si è finalmente avverato. Ehi Thorsten, svegliati. Svegliati subito. Ah. Cosa stai facendo lì? Faccio solo un sonnellino veloce. Il letto è per i pazienti, non per te. Perché mi hai svegliato? C'è un tipo con la tosse. Ha bisogno del tuo aiuto. Avrei dovuto diventare un chirurgo estetico. Questa è la casa di Bob. Finalmente posso vendicarmi. Oh mio Dio. Penso che voglia ucciderlo. Beh, non possiamo farci niente. Sì, dobbiamo fare qualcosa. Se lo fa, finiremo in galera. Devi parlare con il cuore. Qui controlla tutto. Dove posso trovare il cuore? Fin là dietro. Ma prima devi superare i polmoni. Ehi Samuel, sei ancora sveglio? Sì, perché? Papà si è lamentato della mia scoreggia. Non lo fa mai. Sì, anch'io pensavo fosse strano. Possiamo fare un test. Che sia normale o no? Chi è quello? Sì, salve. Papà, posso avere un nuovo cellulare? Sì, certo. Tutto quello che vuoi. Ok, prendo un iPhone 15. Ok, ci vediamo dopo. Oh mio Dio. Non è papà. Mamma, non crederai a quello che è successo oggi. C'è ancora uno sconto nel negozio di ciambelle? No, molto meglio. Io e Selina abbiamo un appuntamento domani. È fantastico. Sono così orgoglioso di te, Bob. Grazie, Mamsi. Finalmente avrò dei nipoti. Non permetterò che succeda. Il cuore deve smettere di farlo. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Samuel, mi senti? Samuel, svegliati. Doner kebab con formaggio. Dove posso trovare il doner kebab con formaggio? Dobbiamo andare subito da papà. Perché? Voglio dormire. Non è se stesso. Ne sono sicuro. Ora è il tuo turno, Bob. Ride meglio chi ride per ultimo. Mamma, stirami la camicia migliore. Devo prepararmi per il mio appuntamento. Bob mio caro, la cena è pronta. Non posso adesso, mamma. Devo prepararmi per il mio appuntamento. Ci sono sicuramente alcune buone righe online che posso usare. Questa è buona. Se la bellezza fosse un crimine, dovresti passare la vita in prigione. SHHH Che cos'era quello? Devo trovare rapidamente il cuore. Prima che il ragazzo faccia altre sciocchezze. Il polmone è lassù. Sono sulla strada giusta. Quindi cosa dobbiamo fare di nuovo? Scopriremo cosa c'è che non va con papà. Non possiamo farlo domani? No, ho un brutto presentimento. Forse devi andare in bagno. No, non è quello. Vieni adesso. Sì, ok. Ce n'è un altro qui. Sei più sexy di quanto la polizia permetta. SHHH Ancora quel suono. Cosa c'è sotto il mio letto? Chi sei? E cosa stai facendo nella mia stanza? Ehi amico, sei il polmone? Chi lo vuole sapere? Io. O c'è qualcun altro qui? Lasciami in pace, ho del lavoro da fare. Perché sei così stressato? Lavoro 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Certo che sono stressato. Non mi riconosci Bob? No, ci conosciamo? Guardami negli occhi. Oddio, Hugo. Sei tu? Sì lo è. Come può essere? Ma tu eri. Morto? Sì, ma non per molto. Come ti ho detto. Ti prego, non fare del male a mia madre. Sei sempre al lavoro. Sì, altrimenti non riusciamo a respirare. Odio il mio lavoro. Una vacanza ti farebbe bene. Sarebbe così bello. Finalmente potevo rilassarmi un po'. Rilassati. Fai una breve pausa. Forse hai ragione. Solo per pochi minuti. Ultime parole, Bob? Dite a mia madre che la amo. Proprio come desideri. Dai, facciamola finita. Cosa sta succedendo qui? Non riesco a respirare. Ehi, qual è il punto? Abbiamo bisogno di ossigeno. Cosa stai facendo lì, polmone? Rilassati. Mi sono appena riposato per un minuto. Ricomincia a lavorare. Non vieni pagato per stare seduto. Non mi pagano nemmeno, idiota. Funziona di nuovo. Dov'è quel poliziotto? Quanto ci serve ancora, Lisa? Arriveremo subito. Voglio solo dormire. Non piangere così tanto. Non può essere vero. Hugo è tornato. Eccoti. Hugo, ti prego non farlo. Non era tutto inteso in quel modo. Sali subito in macchina. O ti costringerò a farlo. Dove stiamo andando? Lo capirai bene tra poco. Era l'auto di papà, vero? Sì, sembrava così. Allora dobbiamo inseguirlo. Dimmi, dove posso trovare il cuore? È proprio lassù. Ma prima devi superare l'intestino. Ok, grazie mille. E ricorda, fai sempre respiri profondi. Dovrebbe essere divertente? Andatevene da qui. E non iniziare a fumare. Dove andiamo adesso? Stiamo facendo visita a un tuo amico. Andiamo da Robert? No, andiamo in ospedale. Cosa stai facendo? Sei un mostro. Lo vedrai subito. L'ospedale è laggiù. Cosa vogliono lì? Ciao, tu sei l'istinto, vero? Sì, cosa vuoi? Dov'è il cuore? Devo sistemare qualcosa. Puoi mangiare verdure per favore? Uh sì, lo prometto. Di solito si tratta solo di hamburger e pizza. Non sono proprio più dell'umore giusto per questo. Dimmi la via che porta al cuore. Allora mangerò verdure. Il cuore è lì dietro. Passa vicino al fegato e poi a destra. Cosa facciamo adesso? Stai aspettando qui? Devo solo andare a prendere qualcuno velocemente. Salve dottore. Non sto affatto bene. Quali sono i tuoi sintomi? Puoi concedermi un congedo per malattia per favore. Sì, ma cosa avete? Ho mal di testa. Sembra tutto normal lì. Salve, come posso esserle utile? Salve. Vorrei parlare con il dottor Thorsten, per favore. Lo conosci? Sì, ho un regalo per lui. Ho bisogno di un congedo per malattia per due settimane, per favore. Ho già prenotato i voli per la Spagna. Ok, ti scriverò qualcosa. Ho un'altra cosa. Puoi darci una rapida occhiata? Thorsten, vieni qui. Ehi, sei il fegato? Cosa hai fatto la settimana scorsa? Cosa intendi? Sai esattamente cosa intendo. Ho dovuto lavorare tutto il weekend a causa tua. Oh sì, scusa. Era il compleanno di Frank. Ci conosciamo? No, ma congratulazioni? Per cosa? Hai vinto il viaggio alle Maldive. Davvero? Sì, vieni con me. Ti porto direttamente all'aeroporto. Fantastico, grazie. Ma sei in servizio notturno stasera? No, mi dimetto. Stiamo andando all'aeroporto in questo momento? Sì, non dovremmo perdere tempo. Ok, comunque indosso un costume da bagno. Accidenti, ci è mancato di nuovo. Sì, ma eravamo davvero vicini. Dobbiamo fare un passo avanti, Samuel. È l'unico modo per catturarlo. Volate anche alle Maldive? Lo spero. Ehi, hai perso l'uscita per l'aeroporto. Oggi prendiamo una scorciatoia. Voglio andare al cuore. No, non puoi andare lì. Perché no? Perché lo dico io. Ecco una scorciatoia per l'aeroporto? Sì, basta entrare nella grotta. Va bene se lo dici. Cosa stanno facendo in quella grotta? Diamo un'occhiata. Pensavo stessimo volando alle Maldive. Faremo qualcos'altro. Pagherai per tutto quello che hai fatto ora. Mi stai facendo passare adesso. No, mai. Ultime parole? Ti amo, Mamsi. Voglio una Lambo. Papà, cosa stai facendo lì? Mi hai seguito? Beh, allora dovrai sparire anche tu. Oddio, Lisa. Prendi quel fegato. Ah, cos'era quello? Sei il prossimo cuore. Lascia stare la mia famiglia, stupido. Questo è per te. Ah, il mio cuore. Fa male. Papà, stai bene? Sì, perché? Posso avere un nuovo cellulare? Sei pazzo? Assolutamente no. Sì, è di nuovo lo stesso. Dove sta volando il paziente? A. Italia B. Grecia C. Spagna Lascia un commento.